Ve lo dico subito, la gara di domani non si decide con la qualifica di oggi, ma con la strategia legata all'outlap dei pit stop. Segnatevi le mie parole, tanto ne riparliamo a fine video. Innanzitutto, cosa ha fatto Gasly? Allora, le Alpine, potevo capire in Brasile, pioggia, fortuna, condizioni favorevoli, ma qui a Las Vegas non c'è una spiegazione razionale. A meno che non vogliamo fare il nome di Flavio Briatore, perché da quando è arrivato Briatore è un dato di fatto. Qualcosa sta cambiando e sta anche cambiando in fretta. È un caso? Io credo di no. E ditemi nei commenti cosa ne pensate, perché sono iper curioso. Complimenti, ovviamente, il vincitore va sempre applaudito, a Mercedes, soprattutto a Russell, per una pole position che è stata un po' telefonata durante tutto il weekend. Sapevamo che la W15 funziona molto bene in condizioni di pista fredda, pista sporca, e ovviamente quando raggiunge quel grado di temperatura, quella finestra di temperatura, dove si crea una sinergia perfetta tra guidabilità, tra usura delle gomme e quindi, in particolare, con le pirelli. Io ve lo dirò all'infinito. Le gare non si vincono con la macchina più veloce, che ha il picco di prestazione più alto, ma con quella che interpreta meglio le gomme. Ovviamente non dobbiamo sottovalutare poi l'importanza della Power Unit in una pista del genere, tutta motore, perché la Mercedes, casa madre in particolare, potrebbe anche ritrovarsi in una condizione di rotazione di componenti che magari le va, appunto, a genio. Magari ha i motori più freschi in percentuale rispetto agli altri, e questo è un tema. O almeno potrebbe esserlo. È una variabile che va messa a sistema. Ora, Lewis Hamilton, troppo deludente. Io capisco che non sia più nel suo prime, non è più il pilota di prima, ma stiamo parlando del miglior qualificatore della storia. Russell, dal canto suo, è un pilota eccezionale, lo dico da sempre, è nel giro con Leclerc e con Norris, però abbiamo, stavo per dire ho bisogno, ma in realtà abbiamo bisogno di un Hamilton che arrivi a Maranello con una mentalità solida, vincente, perché sappiamo essere un pilota un po' emotivo che ha bisogno di grandi prestazioni. Ma partendo decimo, se non sbaglio, non va bene. Ovviamente Sergio Perez, escluso in Q1, non fa più notizia, credo che ogni commento sia superfluo, perlomeno a livello social. Mentre per quanto riguarda la sua squadra, la Red Bull, credo che qualcosa da dire ci sia, perché non ho mai visto una situazione come questa, escludendo magari un sergente in Williams, dove è scontato, naturale, dovrebbe essere praticamente una pratica d'ufficio, quella di sostituirlo. Però tra sponsor, tra soldi e altro, non è detto che nel 2025 non ci sia. Nel frattempo, se vi va, iscrivetevi al canale, è gratis, davvero, non vi costa nulla, per me è molto importante e mi aiutate ad accrescere il segmentino degli iscritti. Grazie a chi lo farà. Prima di aprire il capitolo Ferrari, vogliamo parlare di Franco Colapinto? Io a questo punto do perfettamente ragione ai commentatori di Sky, quando dicono che attorno alla sua figura, attorno a questo pilota, forse si è creato un hype, un interesse un po' eccessivo, un po' troppo marcato per quello che ha fatto vedere. Sì, va bene, è andato a punti, a differenza di sergente che non c'è mai riuscito, però non mi sembra, Franco Colapinto, un pilota pronto per un top team e comunque di danni alla Williams ne sta creando parecchi. Ripeto, non dico che l'interesse attorno a Franco Colapinto sia del tutto immotivato, perché per esempio anche oggi tutto sommato ha fatto meglio di Albon. Però calma, 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 dico solo questo. Capitolo Ferrari molto semplice, la macchina non mi è mai sembrata al top assoluto di prestazione per quanto riguarda il giro di qualifica. E infatti nel video di ieri, quando ho detto che vedo una Ferrari con la quale si può sognare, chiaramente penso al passo gara, che è l'unica cosa che conta. Poi ci arriviamo sulla prestazione di Leclerc, non perfetto nel T1, poi un giro comunque dignitoso, diciamo così, ma chi ha fatto veramente la differenza è stato un Carlos Sainz super solido, pilota che fino all'altro ieri in pratica andava molto bene in gara, ma che quest'anno anche in qualifica non se la cava male. Non credo comunque che la corsa di domani sia particolarmente in salita per la Ferrari, anche perché adesso, ovviamente, dobbiamo parlare di passi gara e la tabella condivisa mostra che la gara dovrebbe essere un affare privato tra Ferrari e McLaren. Ovviamente sono i tempi del venerdì, bisogna essere cauti, però pare che Mercedes e Red Bull possano insidiarsi solo in condizioni a loro particolarmente favorevoli, quindi con un Max Verstappen che fa il Max Verstappen, oppure finestre di temperatura particolarmente favorevoli. Dopodiché, poco fa, mi sono dimenticato di commentare la prestazione della McLaren, sicuramente sotto tono, ma non dipende dall'ala posteriore, tra virgolette, legale, quindi non dipende dal fatto che non hanno più l'ala utilizzata a Baku, perché questo gap è molto importante, e comunque il Texas è una pista palesemente atipica, ma neanche guardando il layout, basti pensare alle temperature, basti pensare che se ti ritrovi un Gasly nelle prime due file, ovviamente non è una gara, non è un tracciato standard. Anche se Mercedes non è la favorita per il passo gara, è ovvio che per George Russell partire in pole position è un vantaggio non indifferente, vantaggio che però potrebbe perdere anche abbastanza presto, magari già al primo rettilineo alla fine del primo giro, o al massimo al secondo, perché se non riesci a prendere quel secondo di vantaggio rispetto a Sainz, Sainz ti andrà ad usare il DRS, quindi prevedo bagarre e tanta già da subito. Poi c'è un altro punto molto importante da tenere in considerazione, che è quello del consumo carburante. Las Vegas è una pista velocissima dove i sorpassi sono piuttosto semplici, e molto spesso anche tanto spettacolari. Ricordiamoci che cosa ha fatto Leclerc nel 2023, l'anno scorso, con la super staccata su Sergio Perez, giusto per fare un esempio. Però se parti dietro, un piccolissimo rischio di trenino di RS effettivamente ce l'hai, quindi sarà fondamentale, sarà strategicamente rilevante, utilizzare con intelligenza la mappatura dell'ibrido, essa per risparmiare benzina, perché quando ti trovi in scia delle macchine davanti, c'è un risparmio di carburante. E quindi mi auguro che, in favore di ciò, la Ferrari vada un po' meno incontro al fenomeno del lift and cost, che abbiamo visto molto spesso negli ultimi appuntamenti, soprattutto con Charles Leclerc. Lift and cost che la metà delle volte metti in atto per risparmiare power unit, in quanto a temperature, quindi garantendone una migliore affidabilità, ma lo fai anche per risparmiare benzina. Le basse temperature, ovvio, dovrebbero aiutare, non stiamo correndo in Qatar, non stiamo correndo a Singapore, quindi l'affidabilità non credo sia un tema rilevante, e quindi, ripeto, se ci sarà lift and cost, sarà più che altro per una questione di risparmio carburante, che, ribadisco, è una variabile strategica davvero importante. Ma il punto fondamentale di questa gara, ve lo dicevo all'inizio del video, è la strategia che si va ad attuare nel giro out dopo i pit stop. Non sono sicuro che sia una gara a singola sosta, ma non è questo il punto. Il punto fondamentale è che non esiste un'altra pista al mondo, dove l'uscita dai box, e quindi la strategia che tu attui per quanto riguarda, appunto un'uscita più o meno aggressiva, quindi un outlap più o meno incisivo sulle gomme, beh, da nessuna parte è così importante come a Las Vegas. Il motivo è semplice, nonostante le termocoperte, quando esci dai box, le tue gomme sono letteralmente geride, o lo diventano nel giro di pochissimo tempo. Quindi, se fai un outlap piuttosto aggressivo, o comunque non stai attento, non corri in maniera davvero intelligente, rischi di fare un lungo alla prima staccata, e di curve particolarmente complesse, dove tantissimi piloti hanno bloccato l'anteriore, e non soltanto a gomme fredde, ce ne sono tante. Se ti capita e vai lungo, come minimo perdi 10 secondi per girare la macchina e rientrare in pista, quindi la tua gara sostanzialmente è finita. Per cui sì, per fortuna ci sono tante, tantissime vie di fuga, ma potrebbero essere un trabocchetto, quindi outlap, giro di rientro in pista, è la cosa più importante, è la variabile strategica fondamentale della gara. Poi c'è il tema, o meglio, il problema del graining. L'anteriore sinistra soffre, e soffre abbastanza in fretta. Quando succede, quando hai graining, l'unica cosa che puoi fare è attendere che il graining si pulisca da solo. Perché la soluzione non è quella di rientrare subito ai box e fare un cambio gomme. Il problema, appunto, è che il graining ti toglie confidenza, aumenta le possibilità che tu vada a bloccare l'anteriore e quindi, appunto, finisci nelle vie di fuga. È un po' lo stesso discorso che stavo facendo prima. L'accoppiata tra freddo e graining è micidiale. Ovviamente, tutto quello che vi sto raccontando pensa anche alla possibilità di una safety car, che qui mi sembra, sostanzialmente, certa al 100%. Non aspettiamoci una gara regolare, ma aspettiamoci un box, quindi un muretto box, una strategia, gli strateghi particolarmente svegli. C'è bisogno di un tempo di reazione immediato, perché, come abbiamo visto in Brasile, ma come abbiamo visto in qualsiasi gara dove sia entrata una safety car nella storia della Formula 1, vince sì il più veloce, ma soprattutto chi ti fa fare una strategia che sia anche un po' azzardata, ma che ti dia un certo tipo di respiro. Pensata, ok, non è facile dirlo poi, col senno di poi, sono solo chiacchiere da divano, da bar, però credo che con una safety car praticamente certa e una gara che regolare non sarà, bisognerà stare particolarmente attenti, perché, di fatto, mi aspetto outsider forti, così come abbiamo visto oggi con l'Alpine, non escludo che anche domani qualcosa di strano possa succedere. Grazie. Grazie.